E questo ci porta anche a un ragionamento. Ragionare sul lavoro svolto e progettare il futuro. È l'obiettivo di Focus Turismo, in programma domani, 23 ottobre, dalle 9.30 al Teatro della Fortuna di Fano. L'incontro verrà aperto dal sindaco Seri, dalla sottosegretaria alle politiche del lavoro, Rossella Accoto, e dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Poi l'assessore al turismo, Etie Lucarelli, illustrerà la strategia che ha decretato un nuovo sviluppo, mentre l'esperto Joseph Ejark spiegherà il percorso che il comune dovrà intraprendere per diventare una vera e propria destinazione turistica. Infine ci sarà un incontro con i protagonisti del territorio, con i quali è nata una sinergia per promuovere in maniera organica le bellezze e i prodotti tipici locali. La partecipazione a Focus Turismo è aperta a tutti, mediante prenotazione. Pianificare e creare le fondamenta è ovviamente fondamentale, lo dice la stessa parola, e quindi noi l'abbiamo fatto, abbiamo bisogno di avere una visione di città. Sarà un momento, dopo gli stati generali del turismo, dove dovremo capire cosa abbiamo fatto fino ad oggi e cosa dobbiamo realizzare. E questo momento lo faremo tutti gli anni perché il lavoro non è soltanto quella della strategia, quello di creare le infrastrutture, ma anche che l'amministrazione, insieme agli operatori del turismo, al mondo del ricettivo, gli stabilimenti balneari, e insieme a tutto il mondo degli eventi, lavorino insieme, con la stessa mentalità, con la stessa cultura, lanciando gli stessi messaggi per far crescere la nostra città. Quindi questo è quello che vogliamo fare, lo faremo qui al Teatro della Fortuna, nel luogo più bello della cultura della nostra città, e potremo ritrovarci insieme per fare in modo che anche lo scambio di opinioni e di parole ci faccia crescere.